Il problema delle unghie gialle può risultare davvero imbarazzante dal punto di vista estetico, soprattutto quando si decide di non applicare lo smalto per farle respirare. Affligge sia uomini che donne, e può dipendere da diversi fattori. La causa più comune di ingiallimento dell'etungueale è data proprio dall'utilizzo scorretto e dello smalto, in particolare quello scuro, applicato senza una buona base isolante. Gli altri motivi possono riguardare un'infezione da funghi, l'eccessiva assunzione di nicotina attraverso il fumo da sigaretta, ed abitudini alimentari scorrette. Se comunque vuoi sbarazzarti delle unghie gialle in maniera efficace, provano di questi 10 rimedi, funzionano. 1. Aceto di mele L'aceto di mele è un ottimo rimedio per far dileguare la colorazione giallognola dalle unghie, scacciando anche le infezioni. Usalo così, riempi una ciotola al 50% di acqua tiepida e 50% di aceto di mele, immergici le unghie per circa 20 minuti ed asciuga con una salvietta. Ripeti l'operazione 3 volte al giorno per un mese e l'ingiallimento scomparirà. 2. Acqua ossigenata L'acqua ossigenata è il rimedio più conosciuto contro la discolorazione delle unghie ed in effetti fa meraviglie anche contro le micosi, ma devi assicurarti che la soluzione che impiegherai conterrà solo il 3% di perossido. Di idrogeno, versa 3 o 4 cucchiai di acqua ossigenata in mezza tazza di acqua e mescola bene il tutto, immergici le unghie per un paio di minuti, quindi passaci uno spazzolino, per effettuare una gentile azione scrub e risciacqua. Ricordati di applicare sempre una buona crema idratante, dopo. 3. Bacche di ginepro Si tratta di un altro rimedio naturale molto efficace, soprattutto contro le infezioni che colpiscono il letto ungueale. Ti va di provarlo? Tutte le sere prima di andare a letto, per un mese circa, aggiungi un cucchiaio di bacche di ginepro tritata ad una tazza di acqua calda, immergici le mani per circa 15 minuti. Un po' di pazienza è necessaria, risciacqua con acqua tiepida ed applica una crema nutriente ed antibatterica. L'ingellimento tenderà a scomparire gradualmente. 4. Bicarbonato di sodio Quella del bicarbonato è sicuramente la soluzione più a portata di mano, ed è anche risolutiva contro le macchie da nicotina. Mescola due cucchiai e mezzo di bicarbonato con uno di acqua ossigenata al 3% in una tazza, poi applica con un batuffolo di cotone il composto sulle ucchie. Una ad una, lascia agire al massimo per 5 minuti, quindi risciacqua. In alternativa puoi mescolare il bicarbonato al succo di limone ed usare uno spazzolino netta unghie. In alternativa puoi mescolare il bicarbonato al succo di limone ed usare uno spazzolino netta unghie. In alternativa puoi mescolare il bicarbonato al succo di limone ed usare uno spazzolino netta unghie.